Il Napoli tira un po' il freno a mano. Era strana questa formazione che o vinceva o perdeva, quasi sempre vinceva, poche volte aveva perso, finora in stagione. In campionato aveva fatto sette vittorie e due sconfitte a Genova e a Torino con la Juve e a Genova con la Samp e non aveva mai pareggiato. In Champions invece il rammatico era molto più elevato perché il Napoli, pur essendo secondo a cinque punti, poteva essere perfino a punteggio pieno. Perché dopo la bella vittoria, splendida vittoria su Liverpool, prima e dopo ha collezionato due pareggi che sinceramente hanno lasciato molto l'amaro in bocca. A Belgrado, giocando male, ma pur evidente la sua superiorità, molte palle gol sprecate, e a Parigi, proprio questa settimana, il Napoli ha dominato e avrebbe meritato una sacrosanta vittoria. Purtroppo però il pareggio di Parigi vede raddoppiarsi col pareggio del San Paolo con la Roma. Roma bestiaccia nerissima per il Napoli a San Paolo, visto che per il quarto anno consecutivo la Roma fa punti, anzi per tre anni ci ha vinto addirittura. E stasera sembrava aver portato a casa un'altra volta la vittoria se Mertens, proprio negli ultimi minuti, non fosse riuscito a pareggiare le sorti di una gara. E francamente il Napoli non meritava però di perdere, perché noi questa sera non abbiamo visto un brutto Napoli, ma abbiamo visto la tredicesima formazione diversa consecutiva di Ancelotti su 13 partite, ma che è stata la più vicina possibile alle precedenti. Cioè, questa è la squadra che ha battuto il Liverpool, quella che ha giocato questa sera, con una sola differenza, Maximovic in panca e Usai in campo. Ma rispetto alla partita giocata proprio in settimana col Paese in Germania, i cambi sono stati solo due. E vale a dire, Milik per Mertens nel storito avvicendamento in attacco e Usai per Maximovic appunto, come nella precedente occasione. Il nove undicesimo erano gli stessi uomini e forse la fatica psicologica, fisica e anche quel gol di Di Maria presso agli ultimi istanti può aver pesato un po' sul gioco del Napoli. Che ha avuto una grandissima occasione in avvio e da quell'occasione la Roma ha costruito la sua partita. Perché in segne si è trovata una palla incredibile lasciategli da Fabian Ruiz, fin troppo generoso. L'ha sprecata, grazie anche a Manolas che stasera ha fatto una partita incredibile, salvando ben tre volte la propria porta prima di lasciare il campo infortunato. Da quel momento in poi per Insigne è stato un calvario, la sua peggiore partita. Però i giocatori che hanno estro, qualità e fantasia e che hanno delle capacità superiori si accendono all'improvviso. Insigne nobilita la sua gara, proprio dopo aver sbagliato tutto il possibile e anche l'impossibile, con un colpo davvero genio del calcio. Un cross incredibile di sinistro sulla linea di fondo, quasi con palla che stava per uscire. Che ha consentito a Cagliecon di ciccare il tiro e fare un involontario assist per Mertens, sopraggiunto in corsa. Proprio lì Insigne ha riscattato in parte la sua pessima serata. Non ha convinto questa sera, devo dire sinceramente, la gestione di Ancelotti. Ha scelto di partire con Milik e non con Mertens. Però poi, quando c'era bisogno di avere un uomo d'aria di rigore, poiché il Napoli buttava dentro una miriade incredibile di palloni, gli mancava la riete. Era il caso forse di tenerli entrambi in campo, Mertens e Milik dare maggiore spinta all'attacco, sapendo che poi in panchina non c'era più attaccanti e quindi magari facendolo poi uscire successivamente. Sicuramente stasera ha fatto dei cambi un po' sariani, uomo su uomo, Malcui per Josai, Zierischi per Amsic, che ha fatto una buonissima gara, e Mertens per Milik. Stasera la lettura della gara mi è sembrata fatta molto bene da Di Francesco, che ha giocato in realtà, in realtà ha giocato con un 4-5-1, perché i due esterni giocavano sulla linea di centrocampo, facendo una grande diga. Come avevamo detto, pre-partita la Roma corre poco, corre poco e corre male, ma ha una grandissima fisicità e poi lì davanti, Dzeko e Under hanno qualità. Saravis ha trovato una palla sui piedi che era impossibile da sbagliare, ma il movimento di Dzeko è stato fantastico, Under ha dato una palla a Dzeko, su cui Espina è stato ancora più bravo, sia nella lettura sia nell'evitare il rigore, e poi Albiolo ha salvato. Ma insomma la Roma ha concrezzato pochissime volte un'occasione d'attacco, ha fatto una partita di contenimento come doveva fare, essendo passata in vantaggio, ma questa sera le due squadre non possono essere contente, perché la Juve di Riffio e di Raffae si allontana ancora. Allora, se si gioca per la Champions per il secondo posto, il terzo e il quarto, questo pareggio va bene perfettamente in linea con gli obiettivi. Se qualcuno ancora, specie il Napoli, sogno di gloria, si era portato a quattro punti, questa sera ritorna a sei, deve aspettare che cosa succede tra Lazio e Inter, non può essere contento. Per un motivo di fondo, perché poi questi campionati vivono di momenti particolari. Vedete la Spalla che vince all'Olimpico, poi prende tre gol in casa, indovinate da chi, dal Frosinone, e la Roma che prende due gol dalla spalla, per poco non espugna il San Paolo. Il calcio è strano, lo si è sempre saputo, chi ha giocato lo sa che ogni partita fa storia a sé. Ebbene, a Empoli la Juve stava perdendo. E se quel rigore non fosse stato dato da Calvarese, senza neanche interpellare il VAR, si dice che non è un caso da VAR, perché con il nuovo regolamento VAR, il VAR non può intervenire. Benissimo, allora che l'abbiamo messo a fare sto VAR? Se non si può vedere se un calcio di rigore è tale o non è tale. È fallo del difensore Benasser dell'Empoli o è Di Bala che prende posizione e si frappone tra il pallone e il giocatore avversario facendo anche un movimento d'anca che manda fuori giri e scomponendosi il difensore avversario? Era il caso di andarlo a vedere? Era il caso di capire se questo rigore è un vero rigore o un rigorino? O a parte invertire sarebbe stato dato questo rigore e questa è dietrologia? Probabilmente sì. Però i campionati, lo si sa, quando si ha il momento difficile, pareggi col Genova, magari vai a Empoli e non vinci, hai una doppia battuta a vuoto che può rimettere in gioco tutto. Hai dominato a Manchester, hai la testa da Champions, ma l'aiutino al momento opportuno, francamente, dà fastidio, soprattutto a chi si vuole divertire e vuole vedere un calcio bello, pulito, poi vincono loro, se non più forti, pazienza, ma non così, così non ci piace.